Allora ragazzi, brutti, brutti e distratti, non ho molta voce perché sono un po' influenzato e la partita vista con il Monza sicuramente non mi avrà aiutato a guarire tra virgolette è finita 3-2 per il Monza che la ribalta, l'avrebbe ribaltata anche nel primo tempo se non fosse per quel fallo di mano che gli è stato tolto il 3-2 una Fiorentina che era partita scoppiettante, in 13 minuti due gol ho detto vai, ci siamo subito ripresi dalla sconfitta con l'Ekpozna ci siamo subito ripresi da una prestazione brutta fatta con l'Ekpozna ma invece il Monza ci ha creduto quindi io faccio i complimenti al Monza perché comunque ribaltarla con il 3-2 dopo un 2-0 in 13 minuti avrebbe spezzato le gambe a tante squadre invece il Monza ci ha creduto dal 14esimo minuto in poi il Monza ci ha creduto quindi bravi, quando ce la fai complimenti all'avversario bisogna farli seguite gli amici di Space Viola, come sempre ragazzi qua sotto il link in descrizione se vi va seguite anche me Andrea Marino, Mr. Viola su Instagram, Facebook e ovviamente qua su Youtube una Fiorentina secondo me distratta e condizionata, mi viene da dire questo non è una tragedia, nel senso la Fiorentina credo che in campionato soprattutto dopo che comunque alla Juve li sono stati resi questi punti la classifica si è allungata tantissimo quindi credo che la Fiorentina in campionato raggiungere una posizione europea è estremamente difficile è estremamente difficile, ci sono tante squadre davanti che non hanno tutti i tuoi impegni e che quindi possono preparare al meglio le partite quella con il Monza è stata preparata da venerdì mattina quindi consideriamo venerdì e sabato due allenamenti e poi subito in campo distratti anche dal fatto che tu comunque fra altri tre giorni ti giocherai un'altra partita fondamentale per la tua stagione che è il ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Cremonese credo che le scelte di italiano che poi alla fine se pensiamo a Kwame e a Saponara sono coloro che hanno timbrato il cartellino che erano partiti anche abbastanza bene poi si sono persi, sinceramente si sono persi Kwame è ritornato ad essere il Kwame classico che si scarta da solo anche se devo dire che è stato forse uno dei più pericolosi a livello proprio di pericolosità là davanti Cabral molto spesso isolato e nervoso poi non ho capito bene perché italiano non abbia messo Nico González si è sentito all'assenza di Jack perché Baracca lì nel mezzo ha fatto male anche a Malabat ha fatto male al di là del calcio rigore e procurato all'avversario per l'intervento in ritardo male anche la difesa male anche la difesa perché due gol li abbiamo regalati ragazzi due gol li abbiamo regalati l'autogol e il gol del 2-2 con incomprensione di Martinez Quarta che non capisco come si possa aspettare che il portiere esca a 10 metri oltre l'area di rigore cioè non ti può aspettare lì arriva un pallone, lo prendi e lo sbaranli via insomma comunque purtroppo non siamo nuovi a questi errori letta male probabilmente la partita forse non lo so forse dopo due gol ci siamo rilassati può darsi perché alla fine eravamo partiti anche bene quindi non mi spiego cosa sia successo quindi ripeto secondo me il titolo è molto semplice distratta, una Fiorentina distratta distratti dai troppi impegni da alcune scelte che ovviamente non sono come titolari perché avere Quame, Saponara sugli esterni e poi Sottil che comunque non hanno inciso al di là dei due gol i primi due e Sottil al di là di qualche sfuriata ma lì davanti poi sbaglia l'ultimo passaggio sbaglia l'ultima scelta anche Castroviri non mi è piaciuto tanti errori, tanti errori, tanti piccoli errori che poi messi insieme hanno spianato la strada al Monza per il 3-2 ripeto, tu il campionato quest'anno se tu avessi avuto forse altri due o tre giocatori di livello ma non con questo io non voglio denigrare la Rosa e la Fiorentina che sarebbe ingiusto credo che si sta facendo secondo me per il valore della Rosa un miracolo sportivo ad essere in semifinale di Conference League e dico al ritorno della semifinale con la Cremonese perché secondo me l'italiano l'ha detto non si aspettava una partita così difficile con l'Ecposta sapeva che non era chiusa ma non si aspettava tutte queste difficoltà e secondo me aveva più paura di vincere questa partita trascurando forse quella di giovedì in Coppa Italia quindi secondo me le scelte sono state fatte anche per quello quindi nel senso non voglio dire che va bene così mi dispiace perché hai perso due partite le ultime due giocate le hai perse e vieni da due pareggi in Serie A vieni da due pareggi e ora ti vengono due sconfitte tra Conference e Serie A mi auguro che quella con la Cremonese che oggi tra l'altro credo abbia un po' sancito la sua Serie B possa essere invece quella partita che ti dà la carica la sgrinta anche perché la giochi in casa ti vai a prendere la finale tanto entusiasmo quindi ragazzi io non mi sento di condannare questa squadra sono deluso però hai delle partite che sono troppo più importanti rispetto a un campionato che ripeto ad oggi è difficile che la Fiorentina riesca a prendersi dei punti così pesanti per andare in Europa in Serie A giochiamoci l'Europa con la Conference e la Coppa Italia date retta a un biscotto sempre forza vera ragazzi come sempre non si manca mai non si manca mai no